Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come giocare a Valorant con il controller. Ovviamente questo tutorial è valido anche per qualsiasi altro gioco. Grazie a questo software REWASD, che è gratis per 14 giorni dopodiché dovete acquistare una licenza che ha un costo di 10 dollari all'incirca, non costa molto, avete la possibilità di mappare i pulsanti del controller della tastiera e del mouse. Nel nostro caso dovete associare ai tasti del controller quelli della tastiera. In questo modo quando lancerete Valorant e premerete dei tasti sul controller, questi verranno assegnati a quelli della tastiera. Quindi in altre parole se sulla tastiera premete WASD per muovere il personaggio, se assegnate WASD al controller, quando utilizzerete i tasti del controller assegnati a WASD, praticamente il gioco crederà che voi state premendo i tasti sulla tastiera. Quindi diciamo potete personalizzarvi i comandi come preferite. La prima cosa da fare è lanciare Valorant ovviamente, quindi lanciate Valorant, andate nelle impostazioni e vi vedete la lista dei comandi. Dopodiché aprite questo software e decidete come configurare il controller. Nel mio caso ho assegnato ad esempio allo stick analogico sinistro WASD, lo stick analogico destro il movimento del mouse, le croci direzionali per attivare le abilità, R che corrisponde a X per ricaricare e così via dicendo. Una volta lanciato il software cliccate qui e cliccate su Switch to Xbox 360. Se utilizzate un controller Xbox 360 o One oppure PS4 Remote Play eccetera eccetera. Insomma dipende poi dal controller che state utilizzando. Io opterei per Switch to Xbox 360. Attivate Auto Detect e andatevi a pescare l'eseguibile di Valorant nel vostro pc. A questo punto dovete cliccare sul pulsante da configurare e qui vi scegliete dalla lista a che cosa associarlo. Dopodiché una volta che avete fatto tutto con ogni singolo tasto del controller cliccate su Apply e il gioco è fatto. In Valorant potrete utilizzare finalmente il controller che attualmente purtroppo non è supportato ufficialmente.